Migliaia di kurdi hanno invaso le strade di Francoforte nel bel mezzo della disfida turco-tedesca. L'occasione è quella del Nevruz, il festival primaverile kurdo, ma la manifestazione è stata di fatto anche politica, non solo per i ritratti di Abdullah Öcalan, il leader storico del PKK, il braccio armato dell'indipendentismo kurdo, e le bandiere inalberate dai manifestanti, ma anche per gli slogan contro il presidente turco Erdogan e la sua riforma presidenzialista. Prima di tutto chiediamo la liberazione di Öcalan e delle popolazioni kurde oppresse, e poi ovviamente vogliamo dire la nostra contro Erdogan e il suo referendum di aprile. Siamo assolutamente contrari, spiega una manifestante. Immediata la reazione del ministero degli esteri turco, che accusa la Germania di applicare due pesi e due misure, dopo il divieto ai comizi dei rappresentanti del governo, sono quasi un milione e mezzo i turchi residenti in Germania con diritto di voto per il referendum sulla riforma presidenzialista di aprile. La Germania è stata accusata di nazismo da Erdogan per non aver autorizzato i comizi di un ministro turco sul suo territorio. Autorizzazione poi negata anche da Svizzera, Austria e Olanda, ed il niego usato in patria dallo stesso Erdogan per chiamare i turchi a una risposta coesa con il sì.